Ciao, siamo Mito Picante Il 23 luglio, dalle ore 19 In collaborazione con Gaze Army Sponsorizzati da Lega Nerd e Ludo Media Torneremo in live streaming Ospiti della serata Tania Rossi di Coq Media Domi di Lega Nerd Parte del cast di Skypocalypse Victor Lazzo88 Mattioschi Allover E un special guest del cast di Skypocalypse E poi ci saranno i Gamers di Youtube Baglietta25 Zorodan Games Quiz 108 VigaZoro Del Hollers La Tana del Drago Evviva l'albio Guardate le descrizioni qua sotto Bella lì Connettetevi con noi Trovate il link per connettervi qui sotto Io odio Topic Hunter